Siamo qui nello spazio interviste, siamo all'interno del centro della sala, della segnale quale è la scuola di Varese, stiamo facendo le previazioni di scuola di Toraci. Ragazzi adesso vi dico la categoria, non perché devo ricordarvi la categoria, ma perché sennò non si capisce che il loro scuola di M60, giusto ragazzi? Cioè questi ragazzi hanno più di 60 anni. La cosa brutta? Dei Lidio che si vede più vecchio, però insomma fate questo. Allora, nome? Lidio. Lidio, com'è andata la giornata? Sì, bene. Sei contento e ho avuto soddisfatto? Beh, io già venivo un po' così, come direi? Un po' ogni anno lo stai, sicuramente. Eh certo. Passi gli anni... Però insomma una cosa che è importante, sicuramente, quando dico le due, passano gli anni, però la passione resta. Cioè gli anni della paghe perché, chiaramente, passi gli anni sono fatica, però la passione è su sempre. I soldi, la cantesta, la somma cantesta. Certo. E se io... Sì, io sono due realizzate le cose che mi permettono di dire che questa levità di dire ragazzi, questa che voi siete, è una categoria importante, cioè tutte le 60 anni, al diagosto della passione. C'è anche una preparazione, diciamo, ciò che può essere in arrivo all'alimentazione, già lo stile di vita? Ah, direi che quando io stai andando a piedi, allora, bisogna giocare tutto. Paolo, 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 paolo. – Anche finestre? Me e ancora? Si, io. Tu tu tu. Ah, ancora ha avuto anche passo delle persone che lo sono? Sei tanto che volete in un vizio, passa in sé, come si sembrane, testi e ringrazio la tabiatura nella corsa non mi sembra da fare nessuna notte persone che living and to be ha Io non ce l'ho fatto, il mio nome è Pagano Niro, scusate, è uno stile di vita. Senti, una cosa che stanno dicendo tutti, che potete confermare, andiamo dall'alunismo sacro, come dicevate, nella corsa c'è anche il mezzo del gruppo, c'è anche una domenica, perché sai, c'è anche chi guardandoci un po' che si può capire, ma la domenica mattina che fa freddo, che voglio avere risalzato, e probabilmente, anche per esempio, i gruppi, poi, mancherebbero. A me mancherebbe. E tu riporti un soltroppo. Ma è una cosa che risentiremo ancora meglio. Va bene, ragazzi, io vi dico questa cosa. Dall'anno prossimo e freddo, sul quesimo anno, nel ritorno. Poi si ferma la teoria, si continua la palesetta. Quindi, tutti per noi, la voglia, lo stile, le chiesi, facciamo una cosa. Sicuramente, sicuramente. Perché se ce la voglia, se non ha la voglia... Non facciamo mica parte di strada. Ci sarebbe. Perfetto, ragazzi, vi ringrazio. Grazie a te.